Aspetta, risoluto profilo profilo accetto a possessione però che filtro, zio porco mi è uscito mi è uscito mezzo ciglio fuori dalla pista dio porco a papà l'ultraiano 98 questa vittoria 5 giri annullati il filuolo 38,94 riceve il soldi male qui rinello con la bandiera di cifro se vabbè grazie grazie grazie